L'UFFICIALITÀ DELLA STORIA Il tuo riflesso è dissimile dalla realtà. Non sei abituata a riconoscerti. Giustifichi la metamorfosi delle idee dicendo che, dopo anni di sopore, a svegliare gli animi serva soltanto un soffio di vento. Qualcuno scettico dissente. Deve pur esserci un prezzo da pagare. Dignità ferite. Perché dilacerazioni non ce ne sono mai abbastanza. Perché di responsabilità non saremo mai saturi. Io, intanto, mi dileguo. Tornare a casa mi aiuta. Sempre. A ritrovarmi. Tornare a casa. Tornare a casa. Grazie a tutti.